Inutilità o quasi degli integratori alimentari, secondo una ricerca, questi prodotti non aiuterebbero molto e non andrebbero nemmeno presi, con estrema leggerezza. Attenzione all'abuso degli integratori alimentari. Secondo uno studio condotto in Italia su un campione di oltre 27.000 adulti, pare che l'uso eccessivo di alcune vitamine non giovino per nulla all'organismo, soprattutto se assunte senza il consiglio specialistico. Le vitamine A, K e D, secondo l'analisi, non dovrebbero mai essere ingerite in eccesso e per un periodo di tempo troppo prolungato. Con l'arrivo della stagione estiva, con il caldo e la stanchezza accumulata durante tutto l'anno, però è normale sentirti spossati e sotto tono. Tuttavia sarebbe sempre meglio consultare prima il medico di andare nei supermercati o nelle farmacie per acquistare gli integratori tipici da banco e senza il consiglio, almeno del medico di famiglia. Inoltre, altre ricerche hanno spiegato come l'uso di tali prodotti a base di vitamine non apportino poi dei reali benefici al fisico, perlomeno in ambito scientifico questo non è stato ancora dimostrato. Il consiglio che danno invece i dietologi è di assumere vitamine naturali grazie ad una dieta bilanciata e ricca di frutta e verdura. Secondo recenti ricerche, infatti andrebbero assunte ben 5 porzioni al giorno di frutta e verdura di colori diversi, i 5 del benessere, che aiuterebbero il nostro sistema immunitario e il nostro corpo ad accumulare energia e liquidi sani. Grazie per la visione!